Sono Laura Zucchi, da sei anni mi occupo di selezione e sviluppo all'interno di NTV, maggiormente conosciuta come Italo Treno. NTV è un'azienda giovane e dinamica che ricerca giovani diplomati e laureati che abbiano voglia di mettersi in gioco in un contesto sfidante ed in continua evoluzione. Il 20 ottobre saremo presenti al Career Day Future Job 4.0, un evento dedicato al mondo del lavoro e delle professioni rivolte a studenti e laureati. In questa occasione avrete l'opportunità di incontrare i recruiter per un colloquio conoscitivo e di lasciare il vostro CV. Ad esempio ricerchiamo host, steward, macchinisti o in staff in ambito commerciale, di vendita, legale o ingegneristico. Vi aspettiamo numerosi il 20 ottobre. Grazie a tutti.